Ore di commozione nella comunità di Macchia di Sernia. Carlo Gizzi, professione carrozziere, ha perso la vita in un grave incidente stradale sulla statale Venafrana in prossimità dello svincolo tra Santa Capito e il suo paese. La Nissan Micra guidata dal 66enne si è scontrata con un furgone. La corsa dell'utilitaria si è conclusa sotto il cassone del camioncino, schiacciando l'automobilista senza possibilità di scampo. Inutile l'intervento dei sanitari del 118. Il traffico ha avuto forti rallentamenti sulla più importante arteria della provincia di Sernia e che collega Venafra ai due capoluoghi della regione, una statale tristemente famosa per i numerosi sinistri. Sul posto per accertare le responsabilità del decesso sono intervenuti gli agenti della polizia stradale, mentre per rimuovere i due mezzi incidentati sono accorsi i vigili del fuoco e un carattrezzi. Grazie a tutti.